Allora, intanto benvenuti, benvenuti, buon pomeriggio a tutti, magari avessi la voce di questa cantante. Allora, che facciamo oggi? Facciamo, come sapete, celebriamo la festa di Fiaip, 40 anni, un pezzettino degli ultimi anni, l'ho vissuto insieme a voi, insieme alle vostre ambizioni, alle vostre speranze, ai vostri problemi, alle criticità del settore, soprattutto sono stati gli anni della crisi, della profonda crisi che ha investito il mondo partendo dagli Stati Uniti, poi l'Europa, poi l'Italia, lo sappiamo, una crisi che ha inciso su tutte le categorie produttive e ha inciso molto anche sul settore immobiliare. Oggi festeggiamo però la festa di Fiaip, lo facciamo quindi con un tono più tranquillo, più sorridente, senza però ignorare quella che è la fotografia del presente e soprattutto le prospettive che verranno. Lo faremo confrontandoci con tanti ospiti importanti, ma anche e soprattutto tanti amici, compagni di viaggio di questi anni della Fiaip, quindi rappresentanti del settore, associazioni, esponenti del mondo politico e istituzionale, rappresentanti del mondo del credito, magari ho dimenticato qualcuno, ma insomma tutti per contribuire a capire qual è lo stato di salute del settore e soprattutto quali sono le prospettive. Tra i tanti temi di cui parleremo c'è anche quello legato, lo sapete, alla cosiddetta sharing economy, alla disintermediazione che sta giocando un ruolo rilevantissimo non soltanto dal punto di vista economico produttivo, ma anche dal punto di vista politico e anche le ultime elezioni, per esempio negli Stati Uniti, quelle che verranno. Ci sono degli appuntamenti molto importanti, lo sapete, non ne parleremo di referendum oggi, ma insomma il 4 dicembre c'è la madre di tutte le battaglie elettorali sulla riforma costituzionale, ma il prossimo anno votano la Francia, la Germania, insomma saranno mesi molto intensi, diciamola così, e quindi in questa atmosfera, in questa fase in cui ci sentiamo tutti un po' sospesi, soprattutto pensando alle cose italiane, perché fino al 4 dicembre è tutto un po' sospeso, cerchiamo di capire quali sono i problemi, gli scenari, le visioni, come si deve attrezzare il mondo immobiliare e soprattutto il mondo della FIIP. Voglio dire un'ultima cosa perché si alterneranno moltissimi relatori, moltissime persone, quindi dobbiamo essere rapidi, dare ritmo e sperando che questo confronto ovviamente nell'ambito di una festa, insomma ci accenda qualche lampadina, ci dia qualche idea, sia stimolante per capire come fare ogni giorno il nostro lavoro. Su tutto questo c'è quello che voi sapete benissimo, il concetto che poi ci dobbiamo sempre rimboccare le maniche, tutti i giorni essere come si dice sul pezzo. Allora, prima di far venire qui sul palco il Presidente Righi, ripercorriamo la storia della FIIP questi 40 anni.